Stasera tutti noi ci riuniremo, personaggi famosi e non, personaggi che meriterebbero di esserlo, che probabilmente lo diventeranno, tutti a Recanati per questo premio Città di Recanati. Ciao da Enrico Ruggeri e a presto. Ho cantato certe storie che facevo sempre mie, le sconfitte e le vittorie e le mie poesie. Tra le pieghe della vita quanto dura una partita, ma le maschere che indosso non mi cambieranno mai. Quanta strada che ho lasciato, quanti posti ho conosciuto, quante volte ho traslocato per cercare di più, sempre a correre più forte, non sapendo dove vai, ma la macchina del tempo non mi condiziona mai. Oh no, non è soltanto un fattore di velocità, non è la notte che verrà, che ci fa sentire così fragile, che ci toglie felicità. La verità è che noi non abbiamo mai verità, non è che manchi voglia oppure fantasia. In questo tempo che va via e ci fa sentire così. Grazie a tutti.